Buonasera, benvenuti a 8.30, buonasera, benvenuto Massimo Cacciari, filosofo, buonasera, benvenuta Camilla Conti, giornalista della Verità e buonasera, bentornato Massimo Giannini, editorialista di Repubblica. Mentre le immagini dei neofascisti di H. Larenzia fanno il giro del mondo, per il governo Meloni, arriva anche la grana di Vittorio Sgarbi e non solo. Subito dopo la pubblicità. Massimo Cacciari, la grande adunata dei neofascisti con il braccio alzato di H. Larenzia ha fatto il giro del mondo, le immagini. Oggi il Presidente del Partito Popolare Europeo, Weber, ha detto che in Europa non c'è posto per il saluto fascista e noi lo condanniamo. Allora, so che lei pensa che non sia successo niente di drammatico, però anche la nostra immagine internazionale, europea, non farebbe meglio se la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prendesse le distanze in modo netto? Premesso che saluti fascisti ne abbiamo visto negli anni scorsi a bizzeffe, è premesso che in Germania, oltre ai saluti fascisti, ci sono spesso e volentieri anche manifestazioni con saluti nazisti, che è anche relativamente peggio. Premesso tutto ciò, è premesso altresì che una persona dotata di senso comune sa benissimo che i problemi e i pericoli per le nostre democrazie non derivano da qualche centinaio di poveretti che fanno il saluto romano. Detto tutto ciò, io ritengo che sia grave, certo che è grave, grave perché la dice lunga sul nostro sistema educativo, la dice lunga sulla mancanza di una conoscenza di ciò che è stato il fascismo presso le giovani generazioni. Chi insegna nelle scuole e nelle università sa benissimo che questa ignoranza è totale, malgrado gli anniversari, malgrado gli antifascismi più meno chiacchierati e le manifestazioni antifasciste, eccetera, eccetera. Sa benissimo che c'è una grandissima crisi culturale per quanto riguarda questi problemi, soprattutto nelle giovani generazioni. Quindi io non sottovalido nulla, dico che sono gravissime queste manifestazioni. Dopodiché bisognerebbe appunto risalire alle cause di questi comportamenti e comportarsi adeguatamente. Ma le cause quali possono essere? Non fare un antifascismo retorico e di maniera per gli anniversari. Le cause sono l'ignoranza totale, le cause sono che non si educa alla conoscenza di questi fenomeni e delle tragedie del Novecento con le retoriche degli anniversari. Ma sbaglia quindi chi chiama il professor Cacciari? Sbaglia chi chiama in causa la Meloni e le chiede di condannare, di prendere distanze? Ma certo che sbaglia. La Meloni ha una storia che mi pare onestamente, con onestà intellettuale, abbia del tutto superata e che con danni di fatto non c'entra più nulla con quelle manifestazioni. questa è la realtà. Se dopo vogliamo fare campagna elettorale contro la Meloni, facciamo campagna elettorale contro la Meloni. Ma mi pare chiaro, onestà intellettuale, credo di esserlo, di riconoscere che la Meloni ormai con quella storia non c'entra più nulla. Va bene? A differenza di altri, a differenza della Le Pen per esempio. Perché c'è stato un fascismo francese che da certi punti di vista era peggiore di quello italiano perché aveva una componente antisemita molto più dura di quella italiana alle origini. Nel fascismo non c'era la componente antisemita. Quindi allora la Le Pen con cui amoreggia Salvini, non la Meloni, non più la Meloni, allora ragioniamo di questo. Ragioniamo politicamente di che cosa significhi un Salvini che appoggia la Le Pen e che fa le manifestazioni con la Le Pen e prendiamocela con lui piuttosto che con la Meloni. Mi pare, se dovessimo ragionare, sempre ammesso. Allora, Massimo Giannini, tu vuoi ragionare perché a proposito di Meloni, tu scrivi che la Meloni plana su boschi di braccia tese. Il ministro dell'interno Piantedosi ha detto che vietare il saluto fascista sarebbe controproducente. Poi ci sono altri, anche giuristi, che dicono che il saluto fascista è comunque un reatto. Veniamo un po' rampognati anche dall'Europa, dai popolari, quindi diciamo da chi è considerato molto moderato. Tu perché scrivi che la Meloni plana su boschi di braccia tese? Plana perché, questa è una citazione da Lucio Battisti evidentemente, plana perché non fai conti con quella realtà. Io non sono d'accordo una volta tanto con il professor Cacciari, perché secondo me questa vicenda... Dice che ha superato Cacciari, dice che ha superato questa storia da Meloni. Non vedo come, non abbiamo capito perché, in quale momento l'ha superata. Dice, ha condannato nei fatti, diceva Cacciari. Quando? In quale circostanza? Allora, faccio una premessa, perché ormai nel discorso pubblico italiano se non si fanno le premesse chissà in quali classifiche si va a finire. Io non vedo Italo Balbo e i quadrunveri alle porte di Roma che preparano la marcia sulla capitale. Non penso neanche che il neofascismo sia l'emergenza del paese, un paese che ha 6 milioni e mezzo di poveri assoluti, un paese che vive una drammatica situazione di disuguaglianze, una sanità a pezzi. Sappiamo benissimo che le emergenze sono altre, però fino a prova contraria, l'Italia ha una Costituzione repubblicana nata e fondata sull'antifascismo. E dal punto di vista politico, non penale, c'è anche un risvolto penale volendo, perché sia la Costituzione sia la legge Scelba, modificata poi nel tempo, prescrivono una serie di divieti che sono stati palesemente disattesi negli anni. È vero che quest'ultimo è solo l'ultimo di una serie di casi. Però, io dico questo, questa vicenda la dice lunga anche sulla destra italiana e non soltanto sulla situazione del nostro sistema scolastico, perché è chiaro che quelle braccia tese, in questo senso dico che Meloni ci plana sopra, appartengono all'album di famiglia della destra italiana. Questo è un fatto politicamente e storicamente non valutabile, non valicabile, scusatemi. E quindi, dico, cosa costerebbe a Giorgia Meloni condannare un episodio come quello? Condannarlo. Lei una condanna esplicita di tutto il passato fascista e post-fascista non l'ha mai fatta. Io voglio ricordare soltanto che nel discorso sulla fiducia parlamentare dopo la vittoria elettorale, Giorgia Meloni si è limitata a dire testualmente, io non ho simpatia per nessun regime, compreso il fascismo. Ha poi aggiunto, e ha voluto ricordare, lo dico con riferimento ad H.A. Larenzia, tutti i giovani innocenti uccisi dall'antifascismo militante a colpi di chiave inglese. Fine. il regolamento dei conti con la storia da parte di Giorgia Meloni è finito lì. Allora io dico, adesso che governate, poiché venite da quella storia, nessuno lo può negare, che prima il Movimento Sociale Italiano, poi Alleanza Nazionale, adesso Fratelli d'Italia sia una costola di tutto quel corpus ideologico, beh io mi aspetto un po' di più, perché serenamente questo aiuterebbe questo Paese che ha vissuto una guerra civile a bassa intensità durante la stagione degli anni di Piombo, a chiudere definitivamente quella pagina. E non mi piace questo modo di liquidare tutto con la solita banalizzazione, ma ancora con l'antifascismo. Ma non bisogna dirlo all'antifascismo, bisogna dire a chi non lo condanna il fascismo e il neofascismo, non agli antifascisti, perché se lo facessero questa storia sarebbe finita. Il regime è totalitario, è il discorso che hanno fatto sempre tutti i liberali, siamo contro ogni regime è totalitario, siamo contro fascismo e comunismo. Sì, ma il professor Cacciari, non lo devo dire a lei, l'Italia ha subito sulla sua pelle il fascismo. Questo è l'opposto di tutto, sono le stesse balle, sono le stesse cretinerie dal punto di vista culturale, storico, filosofico, di tutto anche il pensiero liberale, mettiamo tutto insieme, tutto è totalitario, socialismo, fascismo, comunismo, nazismo, e siamo contro tutti. Questa è la posizione della Meloni, che è la posizione del 90% dei benpensanti di questo mondo. Non lo so, ma voglio fare, professore, scusi, Cacciari, le posso fare una domanda? Ma per quale ragione un episodio come questo, che in Italia in molti derubricano come appunto una stupidaggine, una ragazzata, 200 imbecilli, com'è che ha detto Don Zelli? No, no, non dico lei, non dico lei, non dico lei. Allora non sono stato chiaro, io non la derubrico perché in Italia c'è questa reazione, perché è colpa mia, perché è colpa tua, perché non siamo riusciti ad educare i giovani a capire che cosa sono questi fenomeni, e quindi è colpa nostra, è colpa di me insegnante, è colpa di te giornalista, che non siamo riusciti ad educare nessuno su queste questioni, va bene? Questa è la questione che a me interessa, sono d'accordo con questo. Per cui non derubrico nulla, e non sottovaluto nulla. Ma non dicevo a lei. Fa solo colpe nostre, perché loro non hanno mai governato questo paese, non hanno mai fatto i ministri della cultura, non hanno mai fatto i ministri dell'istruzione, non sono mai stati in cattura. Proprio per questo lo dico. Loro, va bene, siamo stati noi che non siamo riusciti ad educare nessuno, la vuoi capire o non la vuoi capire? Chiaro, voglio, siccome Massimo Giannini aveva una domanda, un attimo, professor Cacciari, Massimo Giannini aveva da farle una domanda e poi vorrei sentire anche Camilla Conti. Ecco, la domanda che stavo facendo, retorica a questo punto, e non rivolta a Cacciari, faccio un discorso più generale a chi contesta queste forme di antifascismo militante, no? Perché appunto in Italia funziona sempre questa grande banalizzazione e all'estero, in Europa, il leader dei popolari europei, che non stiamo parlando di un bolscevico, stiamo parlando del leader dei popolari europei, interviene e dice queste cose sono gravissime e in Europa non sono permesse. Ma ci sarà un motivo per cui in Europa su queste cose si accendono le manifestazioni dei nazisti in Germania. Ma lei mi ha viste le manifestazioni dei nazisti in Germania. Ma sono severissime le leggi in Germania, Cacciari. Vabbè, allora consoliamoci dicendo che lo fanno in tanti. Ma poi in Germania ci sono... Così fanno tutti. Ma no, voglio dire, ma non è questione qui, ci sono manifestazioni gravissime per le ragioni che dicevo io. Cacciari, mi faccia solo sentire una qualche effettualità politica. Mi faccia sentire Camilla, scusami Camilla Conti, il dibattito come si suol dire si è infiammato. Vedevo che tu non eri tanto d'accordo su quello che diceva Massimo Giannini. Ma che cosa costerebbe a Giorgia Meloni una parola chiara, netta, anche in questo caso qui? Perché in realtà il suo silenzio sta comunicando qualcosa, no? Allora, prima di risponderti ti faccio una premessa e torno su Weber. Perché secondo me, ma non solo secondo me, io ho fatto anche qualche telefonato oggi pomeriggio per capire un po' come venivano interpretate anche le frasi di Weber. Allora, innanzitutto siamo in campagna elettorale in vista delle europee. Weber è un rappresentante del PPE, sarà capolista anche alle elezioni europee del 2024 e c'è chi vede nelle sue dichiarazioni, da una parte un assist all'alleato Tajani, quindi a Forza Italia, alleato col PPE, dall'altro quasi un monito anche dopo le dichiarazioni che ha fatto Meloni in conferenza stampa la settimana scorsa, conferenza stampa durata tre ore e venti, quindi ha detto un sacco di cose. Meloni, ma ne ha anche non dette ma perché non le sono state chieste. E Meloni ha lasciato una porta aperta alla Le Pen, quindi può essere interpretato, secondo alcuni, il messaggio di Weber, come dire a Meloni, attenta Giorgia, non tirarti dentro la Le Pen, la FD che è Alternative for Deutschland, cioè non facciamo il mucchione, perché quella parte lì non la voglio. E qua chiudo la parentesi su Weber. Scuotevo la testa prima perché mi sono venute in mente due immagini. La prima è, e lo dico citando un film che è caro al mondo della sinistra, quindi rientra culturalmente, appartiene alla sinistra, cioè il film Aprile di Nanni Moretti, di qualcosa di sinistra, Nanni Moretti lo diceva in aprile a D'Alema, qua sono tutti a dire Giorgia di qualcosa di antifascista. E l'altra immagine che mi veniva in mente invece era più cattolica, come il padre nostro che Giorgia Meloni dovrebbe recitare tutte le mattine dicendo non sono antifascista, il fascismo è il male. E chiudo, ricordo che oltre al discorso di insediamento, quando lei ha fatto partire il governo Meloni, quindi ottobre, a ella aveva, secondo Giannini non è abbastanza, ma poi aveva ribadito il concetto quando ha mandato la lettera al Corriere della Sera per il 25 aprile, addirittura usando lo stesso termine che è conculcato, che aveva usato Gianfranco Fini, cioè calpestato il fascismo, che calpestava il popolo italiano, che aveva usato Gianfranco Fini nel 95 ai tempi della svolta. Quando mi hai risposto la domanda cosa le costerebbe dire una parola? Arrivo, 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 aspetta, ti ho risposto citando, aspetta finisco e poi ti rispondo, la terza dimostrazione che è contro il fascismo e che ha regolato i conti, era arrivata anche quando ha mandato il messaggio alla comunità ebraica. E arriva nei fatti, perché poi la domanda di Giannini si può ribaltare che cosa sta facendo di fascista la Meloni e il governo Meloni, perché anche sull'Ucraina, anzi, è opposta a quello che pensano, aspetta e finisco Massimo, è opposta a quello che pensano anche i 200, secondo me, cretini e provo vergogna anche per quelli con la mano alzata, personalmente, l'altra sera d'H, è l'opposto, sono ancora più a destra, sono extra governativi, non piace la Meloni a quella gente lì. E risponde alla tua domanda, può dire sì, che cosa le costerebbe? Potrebbe ridirlo un'altra volta, perché così almeno sono contenti tutti e sono tranquilli, però essere anche tirata continuamente per la giacca, su questa roba, onestamente credo che anche lei si sia un po' scocciata, anche perché dirlo l'ha già detto che le cambia, cioè niente. Giannini e poi voglio tornare da Cacciari. 30 secondi. Qui la questione non chiama in causa le categorie di destra e sinistra, è su questo che noi continuiamo a non capirci, ma perché buona parte del discorso pubblico e anche giornalistico tende a non far capire questo aspetto. Essere antifascisti non vuol dire essere di sinistra. La guerra e la resistenza in Italia l'hanno fatta i cattolici, l'hanno fatta i sacerdoti, l'hanno fatta i socialisti, l'hanno fatta i repubblicani. Quindi lasciamo stare destra e sinistra. L'antifascismo è un valore che va al di là delle categorie classiche. D'accordo? Io, per essere ancora più chiari, io, cara Camilla, non penso che la Meloni sia fascista. È chiaro? Ma io voglio che sia, poiché rappresenta anche me, che non sono di fratelli d'Italia, io voglio che sia sinceramente ed espressamente antifascista. Quindi non sto dicendo che Meloni è fascista. Sto dicendo che fa fatica a far capire al popolo italiano, al popolo italiano, il suo radicato e inamovibile antifascismo. Perché questo non lo esplicita praticamente mai. Mai. Hai capito che vuol dire mai? Allora, succede un fatto come H. Larenzia, parla il suo ministro degli interni e dice episodio gravissimo. Io domando, perché non hai risposto a quella domanda, perché non rispondi tu, non risponde nessuno di coloro che difendono Giorgia Meloni. Cosa le costava di dire, scusami, cosa le costava dire la stessa cosa? Se l'avesse detto ieri sera, questa sera, in questa trasmissione, noi staremmo parlando di tutt'altro. Perché il tema non esisteva. Il tema non esisteva, perché la Presidente del Consiglio, che rappresenta anche me, aveva condannato in maniera inequivoca il fatto. Fine. Non è che uno la tira per la giacchetta. È questo che manca. Non c'è bisogno che la si tiri per la giacchetta. E' lei che dovrebbe sentire l'urgenza di condannare e chiudere il caso. Finita. Finita. Sai perché non lo fa? Perché quella gente vota per lei. Perché un pezzo di destra, di quella destra, vota per lei. E perché quello, come ho detto prima, appartiene al suo album di famiglia. La sinistra, Rossella Rossanda, ai tempi delle BR, lo disse, le BR appartengono all'album di famiglia della sinistra italiana. Se lei dicesse la stessa cosa di questi qua, avremmo risolto il problema. Invece non lo risolviamo. Allora, scusatemi, voglio reinterpellare il professor Cacciari perché le voglio chiedere di una cosa importante che è successa oggi in Parlamento. Perché è stato dato il primo via libera all'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Siccome lei è stato per tanti anni anche sindaco, le volevo chiedere, siccome è un punto importante è questo del programma della destra al governo che dice che questo, ricordiamoci anche del ministro dell'Istituzione Nordio, è un passo avanti. Nordio dice anche che farà bene alla nostra economia abolire l'abuso d'ufficio. Mentre ci sono tanti magistrati, soprattutto quelli che si occupano di corruzione e lotta alla criminalità organizzata, che dicono che sarà un disastro perché l'abuso d'ufficio è un classico reato, spia per questo tipo di reati. Siccome siamo alla vigilia di una spesa mastodontica dei soldi del PNRR, lei che cosa pensa? Penso che ci sono sicuramente dei comportamenti che sono stati puniti, almeno finora, con questi fatti specie di reato che sono spie di corruzione, che sono veri abusi di ufficio, di poteri dati agli amministratori. Ma nello stesso tempo bisogna sapere, sapere anche qui, che molti di questi reati non sono spia di comportamenti di corruzione, eccetera, ma di altro, cioè del sistema legislativo e normativo e della burocrazia di cui questo Paese sta morendo di asfissia. Quindi va bene abolire il reato di abuso d'ufficio? Bisogna saperlo. Io faccio semplicemente un esempio. Sapete cosa significa avviare un'importante opera pubblica in questo Paese? Sapete cosa significa una conferenza di servizio in cui per mettere il primo mattone di un'opera pubblica occorre sentire il parere e avere l'assenso di decine di enti uno diverso dall'altro e mettere insieme legislazioni, normative, procedure completamente contraddittorie tra Regione, Stato e altri enti? Si ha un'idea di cosa significa fare l'amministratore in questo Paese? Si ha l'idea che il controllismo esasperato di questo Paese non ha evitato mai un atto di corruzione e continuano a evitarlo malgrado siano passati più di 30 anni da mani pulite mentre questo sistema serve benissimo a impedire a uno che vuole lavorare seriamente di lavorare seriamente quindi è chiaro che è tutta una materia che andrebbe completamente risistemata ma non a partire appunto da qui come sto dicendo da decenni non a partire da qui non a partire dagli aspetti giuridico a valle ma a partire appunto dalle procedure dalle normative dalle leggi Ecco però lì intanto vediamo che tutto resta diciamo immobile Massimo Ma è evidente ma scusi Gruber è evidente che quando tu non fai le cose come devi farle a partire dalla riforma della pubblica amministrazione è evidente che dopo poi alla fine vai a precipitare a questo livello e dopodiché passano che cosa? Passano in ordio e passa semplicemente l'abolizione e la cancellazione di tutto e butti via bambino acqua sporca ma è evidente che si andava a finire così è evidente E così andranno avanti perché adesso il prossimo passo saranno le intercettazioni insomma Massimo Giannini vedremo delle belle anche su questo fronte Certo perché anche lì non hai voluto affrontare la questione perché non è chiaro che non potevi andare avanti con intercettazioni che non potevi andare avanti come si è andati avanti in questi decenni che la cosa andava risistemata non l'hai fatto e adesso passeranno con i bulldozer e spianeranno tutto Ecco però Massimo Giannini intanto noi cerchiamo di continuare a fare il nostro lavoro in modo serio e ti voglio chiedere perché una grana grossa per la Meloni rischia di essere la vicenda di Vittorio Sgarbi sottosegretario alla cultura che ha indagato per riciclaggio di opere d'arte Ora in serata il leader delle 5 Stelle Conte ha detto cosa deve fare uno per farlo dimettere deve sparare facendo riferimento al deputato di Fratelli d'Italia Pistolero di Capodanno oppure devono dimettersi prima e che cosa accadrà adesso con Sgarbi visto che è una delle tante rogne del governo Meloni Purtroppo credo che non accadrà niente per la stessa ragione che evocavamo poco fa o si evocava poco fa quando si parlava della condanna dei fatti di H. Larenzia non bisogna tirare per la giacchetta la Presidente del Consiglio e i membri del suo governo neanche quando incappano in disavventure giudiziarie che per carità dobbiamo aspettare che ovviamente tutto il leader giudiziario abbia il suo corso per ora Sgarbi è soltanto indagato del Mastro andrà a processo forse ci andrà anche la Santa Anche non lo sappiamo quindi siamo tutti garantisti per l'amor di Dio quindi aspettiamo di arrivare alla fine del percorso però Giuseppe Conte secondo me in questo caso specifico coglie un punto che di nuovo potremmo applicare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto a Calarenzia il tema non è tanto penale è più che altro politico perché una questione morale c'è anche in questa stagione anche con questo governo perché abbiamo citato solo tre casi ma sono uno più rilevante dell'altro a mio parere il più grave è quello di Del Mastro perché lì l'ipotesi è di rivelazione di segreto d'ufficio in Parlamento attraverso Donzelli ma comunque anche quello della Santa Anche indagata per bancarotta forse andrà a processo per questo proprio oggi c'è la notizia che è stata liquidata una delle sue società la Key Group beh insomma sono questioni molto complesse io penso che dal punto di vista politico se di fronte a inchieste di questa rilevanza chi vi è sottoposto facesse un passo indietro farebbe un'operazione di salute mentale e politica per l'appunto ma non la faranno perché ormai abbiamo capito che il meccanismo è quando soprattutto parte un'inchiesta giudiziaria si grida al complotto e ci si rinchiude nella cittadella assediata penso che Meloni lo farà anche con Sgarbi sarà così Camilla Conti oppure Sgarbi alla fine si dimetterà anche perché lo chiede la Presidente del Consiglio e dovrebbe dimettersi no fra tutti e tre Sgarbi è quello che onestamente vedo quello meno incline a dimettersi se devo proprio dire un parere spassionato quindi penso di no no la riflessione che mi sento di fare è intanto da cronista ricordare anche quello che ha detto sempre in questa conferenza stampa ormai memorabile la Meloni sul tema lei si riferiva al caso di Pozzolo quindi al caso dello sparo di Capodanno però insomma ha detto io non posso portare sulle mie spalle io ho grandi responsabilità non è che le responsabilità le devo portare solo io cioè tutti devono capire che queste responsabilità vanno portate e condivise tutti insieme quindi è stato diciamo un messaggio che partiva da Pozzolo ma arrivava a una serie di persone e ha detto ha usato la parola io su questo sono rigida fra l'altro ora appunto rimanendo garantisti perché finora sono indagini allora però e apro una parentesi anche Giuseppe Conte che adesso lancia gli strali dimettetevi tutti quando aveva l'appendino indagata poi condannata ma Conte non c'era già più la Raggi allora doveva far dimettere anche loro usando lo stesso metodo quindi è chiaro che è un'operazione politica quella di Conte anche perché deve essere ancora più all'attacco rispetto alla Schlein che tanto è lì tranquilla non preoccupa minimamente la leader di Praternita quindi non c'è un problema di questione morale no c'è un problema e ti ha detto chiudo la questione morale secondo me è un'altra cioè partendo anche dal ragionamento che faceva la Meloni è che chi fa politica così come chi fa non so ci parlavamo prima di Vannacci quindi il generale ma questo vale anche per i magistrati ha una responsabilità maggiore e nei confronti innanzitutto nel caso di chi le persone di cui parlavamo prima per non mettere in imbarazzo il governo Sgarbi ha messo in imbarazzo anche il ministro San Giuliano tant'è che è riuscito sullo stesso fatto la replica di San Giuliano poi smentita ma soprattutto Giuliano ha detto sul caso Sgarbi che processi si fanno nei tribunali ma soprattutto per non alimentare chiudo chiudo la sfiducia da parte degli elettori questo è fondamentale questo è fondamentale professore Cacciari il telegrafico si dovrebbe dimettere Sgarbi o va bene così e perché ride? io posso dire quello che farei io cosa farebbe? di fronte ad accuse di questo genere anche se fossero totalmente infondate io non avrei la tranquillità e la serenità per continuare per continuare quel lavoro è evidente chiaro anche se fossi certissimo della mia assoluta innocenza come fai a fare un lavoro pubblico con un'accusa di questo genere mi dimetto e dopodiché in tribunale mi daranno ragione e bene sì nel mondo dei sogni sperando che i media sperando che i media diano l'annuncio del mio avere ragione come sicuramente hanno dato l'annuncio delle accuse che mi sono state rivolte come si dovrebbe fare perché voi sapete benissimo che non è che funziona così che la notizia è la notizia dell'accusa ma non è la notizia della soluzione certo certo no 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 su questo è chiarissimo vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché si parla molto dei dissapori tra Salvini Meloni ce ne sono anche sulle concessioni balneari guardate nella strenua battaglia in difesa degli attuali concessionari delle spiagge demaniali il governo ha rivisto a rialzo la metratura delle coste l'obiettivo è dimostrare che le concessioni riguardano porzioni esigue del litorale e dunque non devono essere messe a gara come richiesto dalle norme europee sulla concorrenza in verità i dati forniti dall'ISPRA l'istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale dicono il contrario e cioè che le spiagge italiane stanno lentamente scomparendo fenomeni vistosi di erosione riguardano quasi il 10% dei comuni costieri e le quote di arenile inghiottito dal mare sono destinate ad aumentare sulla scia dei cambiamenti climatici il ministro delle infrastrutture Salvini ha deciso anche di ridurre del 4,5% i già modesti canoni versati dai concessionari allo Stato proprietario delle spiagge decisione motivata con l'aumento dell'inflazione anche questa come fa notare l'economista Innocenzo Cipolletta è una vera novità un tempo in Italia quando i prezzi salivano esistevano delle indicizzazioni che facevano crescere i salari ma anche le rendite come gli affitti e gli interessi sui capitali ora scrive Cipolletta sul quotidiano in più assistiamo a una diversa fase quella dell'indicizzazione alla rovescia ossia se aumentano i prezzi allora si riducono gli affitti lo Stato avrebbe dovuto adeguare i canoni per recuperare l'inflazione e invece li ha ridotti perdendoci così due volte uno strano modo di gestire i beni pubblici siamo in chiusura grazie Camilla Conti grazie Professor Cacciari grazie Massimo Giannini grazie spettatrici e spettatori Linea Floris al suo di martedì quindi state con noi e noi come sempre domani 8 e mezzo arrivederci